Salve a tutti, mi chiamo Adele Mazzetta. Volevo ringraziare la Scuola del Noi per avermi dato l'opportunità di partecipare a questo progetto e di poter realizzare il lavoro sul nostro paese tra presente e passato. Il valore aggiunto è stato quello di poter lavorare in gruppo con le colleghe che mi affiancano e soprattutto veder lavorare in gruppo e collaborare bambini delle classi che hanno aderito al progetto. Salve, io sono Valeria Zenobbi e insieme alle colleghe mi sono occupata in modo particolare di realizzare il gioco del borgo cartaceo e trasformarlo poi nella versione digitale. La cooperazione in questa attività è stata fondamentale sia tra noi colleghe che per i nostri alunni. Buonasera, sono Simona Manferlotto e anche per me è stata un'opportunità poter lavorare in questo progetto e soprattutto sottolineo che la collaborazione e la cooperazione c'è stata tra noi colleghe ma anche tra i bambini che sono stati capaci di sfruttare tutte le capacità dei bambini anche di quelli che avevano delle difficoltà. Salve, sono Stefania Cefalo, animatore digitale e sono felice di aver condiviso una metodologia innovativa come quella della gamification con le colleghe che l'hanno sperimentata in classe con i loro alunni e il successo di questo percorso, di questo progetto è stata proprio la condivisione, la ricercazione e la collaborazione tra questo team fantastico. Grazie a tutte e grazie a Fondazione Monodigitale. Grazie, grazie.